Oggi usciamo decisamente dagli schemi dell'elegante della cerimonia per buttarci su qualcosa di decisamente facile da mettere ogni giorno per andare al lavoro, per fare un giro con gli amici, per andare a mangiare un gelato, per fare qualunque cosa in cui vogliamo sentirci comodi e easy, molto easy. Eccoci qua. Allora, questa è la felpona, spolverino felpa, giaccotto, non lo so, chiamatelo come volete perché tanto non è importante come lo chiamate, l'importante è che è stupendo. Allora, intanto questo è il dietro, mi tiro su il cappuccetto così vedete bene, Danny Rose is always a good idea, quindi bel felpone, un po' da rapper, bello largotto. Questa che indosso è una XS, quindi vi dà la misura, insomma, della vestibilità. Poi, interno, parzialmente rivestito di tessuto maculato, che è lo stesso della t-shirt che si può portare davanti e dietro. Quindi volendo si può fare anche il completo con la stessa t-shirt. A me non piace molto fare i completi troppo abbinati, mi piace spezzare, per cui ho voluto indossarlo sopra la maglia col viso di Francesca, che è deliziosa, questa maglia veramente bellissima. Eccola qua, bella largotta, con la sua bella manicona lunga ma leggera, un cottone morbido, morbido, leggermente grezzo. E poi qui ci sono gli occhiali formati da paillettes. Mi sembra un'idea fantastica. Ovviamente sotto ci ho messo un jeans, ho messo quello con le toppe, perché è il mio preferito al momento, sempre perché manca quello con le stelle nere, per il quale sto sbavando da sempre. E che spero arrivi presto, perché se no vado in una crisi mistica terrificante. Va bene, allora, la felpotta di Francesca, bellina, bellina, i jeans e il felpone con il cappuccio maculato. Delizioso, facile, morbido. Direi che insomma una cosa più easy e più graziosa di questa non la potevamo trovare.